Ternal al lavoro in vista della sfida di sabato contro il Frosinone dopo la bella vittoria maturata contro il Crotone. Cesar Falletti out a causa di una botta, ma fortunatamente il trequartista non ha niente di rotto. Come ha reso noto la stessa società sul sito ufficiale, le indagini di approfondimento effettuate da Falletti in seguito al forte trauma costale riportato non hanno evidenziato la presenza di fratture osse. Il trequartista è stato subito portato all'ospedale per capire le condizioni nel post-gara contro il Crotone, visto che avvertiva molto dolore. Per fortuna la contusione subita da Falletti non lo obbligherà a rimanere fermo a lungo. Certo è che per la sfida di sabato contro il Frosinone non è sicura la sua presenza, anzi le condizioni verranno monitorate di giorno in giorno e sarebbe una perdita importante considerando anche l'euro-gol firmato contro i calabresi. Tanto più che ancora non c'è la certezza di poter contare su Defendi e Palumbo. C'è attesa per l'esito del loro tampone molecolare perché entrambi potrebbero tornare a disposizione giovedì dopo aver effettuato la visita necessaria per tornare all'attività di gruppo.